Buongiorno a tutti, bentornati E' un po' che non ci sentiamo Ma ho una spalla che praticamente mi fa fatica a star seduto E non riesco ovviamente a giocare al computer da oramai due settimane Ma è uscito l'aggiornamento 1.3.0 Cioè oggi esce il cataclismo su Anthem E non potevo non fare finalmente un video su Anthem E' un po' che non lo sentiamo E' un po' che non ne parliamo Io spero sempre che questo gioco si riprenda come ha fatto Destiny 2 E quindi oggi andiamo a vedere un po' che cosa hanno cambiato i ragazzi di Bioware Bene, ovviamente hanno messo una nuova missione della storia In pratica dobbiamo rintracciare un dottore E svelare il mistero del cataclisma Hanno aggiunto il cataclisma Che come abbiamo detto nelle patch precedenti Aggiunge le inversioni Cioè dei modificatori al gameplay all'interno del cataclisma Le classifiche La valuta stagionale Che è una valuta che si ottiene solo ed esclusivamente all'interno del cataclisma E il negozio stagionale Dove ovviamente si possono comprare le cose Con la valuta raccattata nel cataclisma E' ovviamente cambiato il sistema di alleanze Perché adesso sono state introdotte finalmente le gilde Oltre ovviamente ai propri amici Che calcolavano le ricompense nei social Quindi va bene così Le inversioni ovviamente che ne abbiamo parlato prima nel cataclisma Possono essere differenti Possono essere ovviamente portate Sia a un effetto positivo per i nostri strali Che a un effetto negativo Queste inversioni chiaramente hanno diversi impatti sul gioco E chiaramente anche diversi impatti sui vari strali Prendiamo l'esempio di barra fulminante Le uccisioni a distanza ravvicinate Infliggono danni elettrici ai nemici nelle vicinanze Ovviamente questa è una cosa che uno storm non userà praticamente mai D'altro canto Mentre un interceptor la userà praticamente sempre Se uscirà barra fulminante O comunque ci sono diverse cose Che possono andare a favore o a sfavore In base allo strale che voi state utilizzando E' stata modificata E questo credo sia la cosa più importante La fortuna Che era la cosa che non funzionava in antem Ovviamente anche se avevi la fortuna massima come me Era totalmente inutile Perché tanto quelli che non ce l'avevano Droppavano comunque leggendari più di te E quindi t'attaccavi al cazzo e tiravi Detto questo la fortuna è stata completamente eliminata dal gioco Sono stati rivisti tutti i drop di Grandmaster 2 e Grandmaster 3 Dove adesso sono stati aumentati i drop per tutti i giocatori Inclusi quelli che avevano ovviamente la fortuna massima E sono stati rimosse tutti i livelli di fortuna Da tutte le armi e oggetti D'altro canto tutte queste cose rimosse Vengono sostituite dal grado di bonus corazza Quindi al posto di fortuna avrete bonus corazza Sono stati ovviamente cambiati I livelli in cui si droppano le varie cose E si spera che questo nuovo metodo di drop Sia migliore che porti qualche leggendario in più Nelle tasche di quei poveri Cristi Che come me ne hanno ben pochi E ci hanno messo veramente mesi Per arrivare ad avere un'armatura leggendaria Al fine di ogni contratto inoltre Per i contratti leggendari ovviamente Sono stati aggiunti dei forzieri Come nelle roccaforti Le armi sono state completamente O meglio Sono state modificate alcune armi Alcuni equipaggiamenti E ne sono state aggiunte tre nuove classi Che sono gli acceleratori impulsi I condensatori voltaici E i proiettori di lame Queste tre tipi di armi Ovviamente ce ne sono tre di ogni tipo Come potete leggere Sono diversi ovviamente Io ancora sinceramente Finchè non entro in gioco E non ne droppo qualcuno Non so come possono funzionare Sembrano veramente fighi Soprattutto quelli impulsi Che a me piacciono un sacco E quindi vedremo molto Che cosa faranno Modificare le difficoltà Sono state modificate le difficoltà In realtà sono state ridotte Tutte le difficoltà In Gran Maestro 2 In pratica E anche in Gran Maestro 3 In realtà In pratica sono state ridotte Sia la vita che Le armature di quasi tutti i nemici A parte ovviamente Le creature Apex Perché quelle erano già state modificate In precedenza Per quanto riguarda L'equipaggiamento Invece sono state modificate E ovviamente Sono stati sistemati Alcune cose che non funzionavano Come al solito Come potete vedere Ci sono Delle modifiche Praticamente A due pezzi di equipaggiamento Per ogni strale Ma quello che ci interessava Di più noi Sono prima di tutto Stati inseriti gli oggetti Di supporto Mitici e leggendari Per tutti gli strali Ma quello che ci interessa Di più di tutti Sono gli oggetti corpo a corpo Oggetti corpo a corpo Che non vanno a implementare Un nuovo corpo a corpo Per lo strale Quindi il classico pugno Per terra del colosso O le doppie lame Dell'interceptor O la mazza elettrica Del guardiano Non sono state Assolutamente modificate Ma andando a droppare Ovviamente Dei Degli equipaggiamenti Particolari Andranno ad avere Degli effetti Diversi O comunque Migliorati Per quanto riguarda I danni Da corpo a corpo In questo caso Secondo me È l'intercettore A guadagnarne di più Questo perché L'intercettore Attualmente E lo è sempre stato Quello più Fragilino Soprattutto quando andava In corpo a corpo Che è un'assurdità Visto che l'intercettore Vive su questo E in effetti Come si può notare Anche se Qui il colosso Ha diverse Ha due tipi Di guanti nuovi Quindi il guanto sismico Il guanto infernale In cui c'è anche Lo sconquassatore E la collisione di meteora Che sono in realtà Degli upgrade Della base Guanto sismico E guanto infernale L'intercettore Finalmente Potrà continuare Ad avere Un costante Avvelenamento Degli avversari E di conseguenza Avere molto più Danno Soprattutto perché Si vanno ad aggiungerci I danni E Si potranno Ovviamente Anche Aumentare Gli attacchi E le resistenze Del proprio strale Quindi in base A quello che noi Andremo a scegliere Con l'intercettore Potremo in realtà Avere Un impatto Molto più forte Durante I combattimenti Per quanto riguarda Invece il colosso Ovviamente Sono stati Inseriti Il guanto infernale Che in pratica Fa un'area Di bruciatura Quindi un'area Di fuoco Con il guanto infernale Mentre il guanto sismico Non è altro che Danni ad ampia area Molto semplice Per quanto riguarda Invece il guardiano Hanno inserito Solo ed esclusivamente La mazza sismica Noi in questo momento Abbiamo soltanto La mazza elettrica Quindi la mazza elettrica Si può tramutare In volt trasmutante E in questo caso Col pendini Ci si vanno Aggiungere le cariche Dell'abilità definitiva Con questo pezzo E altri due Del guardiano In pratica Noi potremmo sparare Abilità definitive Ogni 30 secondi Credo più o meno Saranno quei 30 secondi Di abilità A tempo di ricaricarla Quindi il guardiano Diventerà veramente Una cosa senza senso E mentre con la mazza sismica Si può utilizzare Furia cieca In cui Infligge dei grossi danni E colpendo un nemico Si aumentano i propri danni Del 10% Per 10 secondi Fino a un massimo Di 5 Questo vuol dire Che colpire Magari un gruppo di nemici Si porta al danno aumentato Del 50% Che schifo non fa Per quanto riguarda invece Il tempesta Ovviamente ci sono L'esplosione bruciante E la scarica elettrica Quindi si basano Sempre tutti Su abilità Elementali Come in realtà È basato il tempesta Bug Infiniti Come potete vedere Sono veramente 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 Infiniti Modificati E sistemati Finalmente In realtà ci sono Dei cambiamenti Specifici Per Un po' Tutti Come potete vedere Sono bug Correzioni E miglioramenti Facciamo ad esempio Stupido La correzione E miglioramenti Dei nemici Correzione E miglioramenti Degli strali Quindi danni inflitti Potenziamenti Del colosso Potenziamenti Del you Ci sono tante cose Che in realtà Vanno A implementare Questo gioco Che per il momento Lascia un po' Diciamo a desiderare Dopo che sei arrivato A livello leggendario Perché sinceramente A livello leggendario Guardi la gente La gente esplode male Ma è così Divertente così Comunque Andatevi da leggere Non sto qua Sinceramente Tutti a Dirveli Perché sono veramente Veramente tanti Quindi Vi lascio il link In descrizione Per andare a vedere Questa news Che stiamo vedendo Tutti assieme Ora Aspetto che finisca Il download E andrò A provarla E poi vi porterò In realtà Un altro video Con magari Sia visivamente Che tutto quello Che ho provato E sentito le differenze E magari ne parleremo Un po' più nel dettaglio E anche un po' più Approfonditamente Anche su quello Che ci si aspetta Poi dal futuro Di Anthem Sperando che un futuro Ce l'abbia Bene Spero di esservi Stato utile So che è un videino Fatto Così Un po' Con le pinze Ma Sfortunatamente Io con la spalla Che mi ritrovo Non riesco a fare Molto altro E sinceramente Sto praticamente Coriccato Tutti i giorni A letto Cercando di non muovere La spalla Per il dolore Che mi fa In questo momento Sto soffrendo Tantissimo Per registrarlo Quindi spero Che questa mia Cosa Si è apprezzata E giuro Ci rivediamo Appena mi sentirò Meglio E soprattutto Appena Tornerò Dalle ferie Perché Ci andrò Tra circa due settimane Di conseguenza I video Non sarò sicuramente In grado di farli Bene Con questo è tutto Ci rivediamo Al prossimo video E GG A tutti quanti Grazie